Ma non si può dire che Armelao, il nuovo sindaco di Chioggia, stia con le mani in mano perché c'è appena arrivata l'ordinanza numero 56 di oggi. Urgenti misure atte superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente, di pregiudizio del decoro e della viabilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela, della tranquillità e del riposo dei residenti in piazzale Europa di Sottomarino. Vi risparmio tutti considerato, ritenuto, rilevato, atteso, dato atto, richiamato, considerato, eccetera, tutti i vari regolamenti che ci sono richiamati, praticamente. Ordina, per le motivazioni indicate in premessa, con effetto dalla data di pubblicazione del presente atto e per un periodo consecutivo di 30 giorni nel piazzale Europa di Sottomarina, l'orario di chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali e dei pubblici esercizi insistenti sul piazzale viene determinato nelle ore 22 con successiva riapertura non antecedente alle ore 6. quindi da praticamente domani, adesso non so quando è stata pubblicata adesso, quindi dentro da domani probabilmente, tutte le attività che ci sono, che si spongono in piazzale Europa devono chiudere alle ore 22. Poi, e questo mi sembra una cosa molto importante, il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica, compresi entrambi i giardini pubblici di Viale Umbria e conseguente abbandono a terra dei contenitori. Poi, il divieto di emissioni sonore e musicali, compreso e la semplice filodiffusione musica di sottofondo, indipendentemente dal volume dell'emissione, da parte delle attività economiche presenti in sede fissa. L'inosservanza di questa norma e di questa disposizione è punita con la somma da 500 a 5.000 euro, con pagamento in misura ridotta di 1.000 euro. Quindi, voglio dire, è un'ordinanza che la dice lunga, mi sembra che la dica lunga, su come il nuovo sindaco Mauro Amelao voglia intraprendere la sua nuova amministrazione, il percorso vuole percorrere. Staremo a vedere in seguito, comunque questo è tanto e per il momento vi diamo notizia di questo.